Doggy, 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 I remember my own doggy Tutto pronto, fere arrivate, si parte per il mare con il nostro piccolo amico a quattro zampe Cosa fare per partire in sicurezza e godersi al meglio la vacanza? Prima della partenza è giusto controllare le vaccinazioni dei propri animali, c'è il cani e gatti e poi in quanto si deve fare la prevenzione per la filaria dalle nostre parti se uno va lungo i litorali italiani c'è la leismania quindi eventualmente c'è da fare la prevenzione c'è una vaccinazione oppure la prevenzione con antiparassitari specifici spoton o per bocca per evitare l'attacchimento del flebotomo che può portare a questa malattia che si chiama leismaniosi Da non dimenticare alcuni piccoli accorgimenti Se si va al mare chiaramente bisogna richiedere se l'autorizzazione se si può portare il caso in spiaggia perché ci sono delle spiagge in cui questo è proibito, è vietato dalle leggi regionali Attenzione soprattutto al caldo e all'acqua salata Il cane deve stare attento per quanto riguarda i radi solari, il sole perché può andare in conto dei colpi di calore quindi attenzione soprattutto ai cani a manto bianco sono molto più sensibili rispetto ai cani a mantello nero per quanto riguarda i radi solari quindi devono stare all'ombra si è presente sempre l'acqua fresca per bere cercare di non fargli bere l'acqua salata e l'acqua del mare in quanto può fungere da purgante saline quindi creare delle forme poi successive di diarrea di dolori addominali, quindi mal di pancia, quindi intolleranze Nella borsa del nostro piccolo amico devono esserci assolutamente i fermenti lattici sia il cambiamento d'aria che alcune situazioni possono infatti far venire male al pancino anche un collirio può essere utile per le irritazioni per i medicinali più specifici invece rivolgersi sempre al vostro veterinario di fiducia che saprà consigliare i prodotti più adatti